La ricerca nell'ambito delle malattie infiammatorie croniche ha sicuramente un ruolo importantissimo, questo perché siamo ancora alla ricerca di fatto della terapia ideale per ottenere il massimo da quello che si può ottenere da un trattamento farmacologico per la cura dei nostri pazienti, per cui è importante partire sicuramente dal dato fisiopatologico per poi passare al dato diagnostico per arrivare poi effettivamente a identificare dei marker che ci possano permettere di curare in maniera possibilmente definitiva la patologia e migliorare non solo quello che noi consideriamo importante che è l'endoscopia, la clinica ma anche la qualità di vita attraverso un approccio che non può essere solo di tipo farmacologico ma deve essere per forza di tipo olistico che vada a comprendere anche la componente psicologica, la componente comportamentale e il miglioramento di quelle funzioni che non sono solo di vita ma anche sociali che permettono a una persona di essere felice.